cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo si profilano giornate di tempo stabile e asciutto grazie alla presenza dell'anticiclone vediamo il dettaglio di mercoledì 24 gennaio sul veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso con maggiore nuvolosità sui rilievi fino al mattino possibili foschie o banchi di nebbia temperature stazionarie o in lieve locale aumento minime intorno allo zero o di poco inferiori massime tra 7 e 9 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche qui cielo in genere poco nuvoloso tuttavia in pianura nella notte fino al mattino saranno possibili delle foschie temperature minime tra lo zero e i tre gradi massime sui 7 10 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige sarà soleggiato o velato con annuvolamenti specie dal pomeriggio sera temperature minime tra 2 e meno 2 gradi massime sui 12 all'incirca dal meteo di antenna 3 è tutto arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago grazie a tutti